si era uscita sabbia d'oro mi aveva scritto e tu dove ti aveva scritto su instagram? tra l'altro me l'ha mandata questa estate mi aveva mandato uno screen c'era una foto di lui che guardava sabbia d'oro e diceva che figata dai e lui cosa ti aveva scritto la prima volta? ma delle belle parole mi aveva scritto cioè tu in quel momento apri instagram e vedi che Marla ti aveva scritto il messaggio di Marla poi in un momento in cui nel senso un mese prima leggevo il messaggio del mio vicino e una settimana dopo invece avevo un botto di follower di occhi addosso e mi scrivevano Marla mi taggava Salmo cioè incontravo Tedua e chi sono i tuoi amici in questo settore altri artisti qual è il tuo rapporto con gli altri artisti? il primo che mi viene in mente è perché è venuto anche qua Emis è stato uno dei primi con cui mi sono visto e con cui abbiamo iniziato il rapporto e ci vogliamo bene ovviamente anche Rafi e Ugo grazie